Palla appoggiata all'indietro ancora per Maicon, lo va a contrastare a Dejo, Maicon va dentro da solo e viene chiuso in calcio d'angolo, primo corner della partita. Parte la traiettoria, ben calibrata, la testa è di Cozza, palla che si impegna, rimane dentro l'aria, allontanata, ancora Balotelli contro Coras, colpo di tacco, cambiasse solo! E' gol! 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 In Cucciu! In Cucciu! Questi sono i suoi gol, dice sempre, sulle palle sporche e sulla palla sporca c'è che ha un minuto 6. Eccolo qua, la posizione regolare con il destro. Posizione regolare sul colpo di tacco, controlla questo pallone con il destro, lo mette dentro. Inter in vantaggio di un gol, Balotelli. Bravo Lanzaro! Fa un fallo, arpionandolo giù. Due palle a Mario, due falli di Lanzaro. E allora c'è la battuta lunga, cambiare sulla sinistra per Mansini. Buono l'uno contro uno, salta secco Lanzaro, entra in aria, vai Diamantino, attenzione! Doppio passo, atterrato e rigore! Calcio di rigore! Calcio di rigore! Protestano i giocatori della regina, c'è un'ammunizione per il numero 16, Valdez, ammonito per proteste. Ci va Ibra! Rivediamo il doppio passo e da qua, a velocità normale, do il rigore 20 volte, piede contro piede. Netto! Calcio di rigore, piede, gli prende il piede. Parte Ibra, il suo tiro! E' gol! 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 2-0! Minuto 10, Inter, già in doppio vantaggio. Dechi recupera un buon pallone, Ibrahimovic può partire un'azione di ripresa con Obinda che se ne va. Attenzione a Ibra, vada solo, vede la porta, l'op, il tiro! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Capo lavoro del genio! Capo lavoro del genio! Spum! Cucchiaione! 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 E la palla è alle spalle di Pugioni. Il gol del 3-0, se la ride e fa bene il nostro presidente per la grande giocata di Ibrahimovic. Un gol da rivedere 20 volte come bel gesto della sera. Guardate, se ne va in slalom, vede il portiere fuori, hop! Chapeau! Pugioni può solo andare a raccogliere. Grande gesto tecnico di Ibra che raggiunge al comando della classifica dei marcatori di Vaio con 19 gol. Grazie!